Anche nel comune di Premio, questa primavera, si terranno le elezioni amministrative per la scelta del sindaco. Queste le richieste dei cittadini ai candidati. La cosa che manca è stata abbandonata, la manutenzione delle strade e dei marciapiedi. Io che ho dei problemi anche a camminare, ci sono dei marciapiedi pieni di buche e le strade pieni di buche. Quindi questa è una cosa importantissima per il paese. Una maggiore attenzione all'aspetto ambientale, all'arrivo urbano, che è un problema sentito in tutta Italia, a meno che a Premio, da quello che ho capito in questi ultimi vent'anni. Un sostegno ai produttori locali per la creazione di un mercato locale. Sicuramente quello che potrebbe servire a Premio è un certo tipo di servizio per le persone, soprattutto rivolto alle persone anziane. Quindi magari degli alloggi con delle edilizie agevolate, questo è qualcosa di sicile e magari, come ne so, un centro turino sempre per le anziane, perché è un paese dove c'è un'alta concentrazione di persone di una certa età. Grazie a tutti.